allora in diretta dalla nuova casa e ne ho approfittato da un po di tempo libero così vi faccio vedere un po un mini tour della casa anche se vi avviso già sta veramente incasinata questa è una casa che è vicino più o meno dove abito io comunque nello stesso paese ed è una casa che è stata disabilita da parecchio tempo è utilizzata per altre cose insomma che sono state fatte negli anni ed è la casa una casa di pavio e verremo praticamente qui a stare per un po di tempo affinché poi non ci ristrutturiamo bene l'altra casa che abbiamo e che è da fare veramente è da tipo demolire e rifare la luce fa schifo perché ci sono ancora le luci della casa vecchia quindi sono tutte gialle che io probabilmente cambierò in bianche già le ho comprate prima ancora dei mobili perché le luci gialle le odio quindi come vi dicevo appunto siccome è una casa d'appoggio in cui non staremo diciamo chissà quanto o comunque non staremo tutta la nostra vita e poi ci trasferiremo in quella proprio nuova che ci faremo come vogliamo noi abbiamo poi sei mobili che non c'entrano nulla con lo stile di qua perché questa è una casa vecchia con i mattoni che non abbiamo giustamente cambiato perché rimangono questi e quindi avremo uno stile diciamo moderno su un appartamento comunque degli anni 50 penso che sia e quindi penso che l'inizio della situazione sarà un po tragica però non fa niente è l'importante avere una casa e sistemarsi e ho preso i mobili non tutti ancora anzi in realtà ho preso la camera da letto e poi ma non vi dico che cosa ho preso altro e con l'idea poi un domani appunto siccome c'è già il progetto della casa nuova che sarà non so quando ho preso i mobili appunto già pensati per quella casa quindi qua mi devo arrangiare proprio detto in maniera in parole povere ora vi giro la fotocamera vi faccio vedere più o meno la casa anche se appunto è ancora in fase di allestimento e con le modifiche che stiamo facendo per viverci e alcune parti non ve le mostro perché è tipo un deposto di oggetti che non sono miei quindi non vi posso assolutamente far vedere però comunque la stanza quella è una stanza quadrata mancherà solo un pezzo di stanza solo la prima poi per il resto vi posso mostrare tutto quindi partiamo vi mostro la mia futura casetta anzi la nostra perché sono fatta senza rabbia allora questa è la porta di ingresso qui già stanno facendo macello perché c'è il quadro dell'acqua stanno sistemando come vedete qua come vedete qua ci sono ancora delle cose che vi ho detto prima che spariranno prima o poi questo è il pavimento che vi ho detto che praticamente insomma non è di mio gusto però questo mi devo tenere e questo mi tengo molto bene quindi la parte di qua non ve la posso mostrare perché ci sono appunto le cose che vi dicevo prima vi faccio vedere solamente quest'altra parte tanto una camera normalissima come tutte qua c'è questo armadio gigante che anche questo sparirà quindi una stanza più o meno rettangolare diciamo quindi qua verrà il divano così alle mie spalle dietro dove c'è la porta verrà il tavolo e poi di fronte al divano quindi nel muro che sta di fronte verrà la televisione quindi proseguiamo di qua in questa porticina si va nella zona poi che vedremo dopo della cucina entriamo di qua è la classica casa vecchia ragazzi è tutta così stanza per stanza questo è l'altro pavimento bellissimo che io odio ma che mi devo tenere penso che anche a qualcuno piacerà questa è un'altra stanza incasinata che è veramente c'è il macello qui ci andrà l'armadio anche se questa parete è l'unica ad essere dipinta di un colore diverso e forse ci metto il letto ma non ho ancora deciso e invece da quest'altra parte in teoria ci va il letto qui ci va il letto qui così con i due comodini e niente di che insomma non vi mostro perché veramente c'è il macello quindi questa sarebbe la camera da letto tornando nella camera iniziale quindi nel soggiorno abbiamo poi nel corridoio che adesso vedete con tanta luce perché ora vi faccio vedere perché vedete tanta luce allora sopra qui c'è praticamente il sottoscala dell'appartamento di sopra che sopra è abitato e qui appunto ci andrà penso una porta a soffietto e qui ci farò un ripostiglio di qua c'è tutto il corridoio questa è la parte di casa che praticamente sarà modificata perché appunto poi un domani magari anche per affittarla è meglio che rimanga insomma già che è vuota la stiamo sistemando come vedete qua ci sono tutti quanti i tubi che abbiamo passato dell'acqua questo viene tutto quanto pavimentato col pavimento che vi mostro poi dopo tutta questa zona viene pavimentata fino ad arrivare alla cucina quindi io dal soggiorno arrivo direttamente in cucina così così attenzione che non cado questa è la cucina secondo voi c'è qualcosa che non va la vetrata non c'è manca il muro praticamente aperta deve essere tutto un open space con fuori questa è la cucina ed è abbastanza abbastanza grande quindi praticamente qui come vedete è l'unica zona della casa che sta subendo delle ristrutturazioni perché siccome qui c'era una grande vetrata che portava fuori e praticamente la vetrata faceva schifo perché era vecchissima e quindi tipo mi stava per cadere in testa quindi abbiamo deciso di cambiare almeno la vetrata ci sono tutte quante le piastrelle che noi abbiamo prontamente tolto perché facevano schifo e le piastrelle erano queste qui queste ne vogliamo parlare sono rimanendo solamente al camino andiamo poi nell'altra stanza che comunica con la camera da letto che sta lì questa è una stanza jolly e penso che sarà la mia stanza studio finalmente avrò uno studio tutto mio qui e farò appunto le mie ore di dopo scuola lì questo è il vecchio lavandino che stava di là e questo qui qui praticamente verrà la scrivania quella che già ho a casa adesso mia perché per adesso altri mobili non ne posso comprare e qui praticamente poi penso di fare una cosa così è una cosa e le qui con un tavolo in modo che le ragazze si sono qui a fare dopo scuola e l'unico mobile che per adesso ho comprato è quello ed è una scarpiera perché noi abbiamo tante scarpe almeno fabbio ha tante scarpe e quindi ancora prima dei mobili ci siamo presi la scarpiera quindi come vi dicevo ho preso la camera da letto senza armadio perché poi un domani mi verrà la cammina armadio e ho preso questa scarpiera per adesso poi devo prendere la cucina il divano l'abbiamo già scelto dobbiamo solo prendere il tavolo pure abbiamo già scelto dobbiamo solamente comprarlo man mano perché sennò ragazzi è un macello e poi di qua c'è il bagno che vi accendo perché non guardate che fa veramente schifo vabbè è un bagno normalissimo lì il lavandino va cambiato questo bagno andrebbe ristrutturato completamente però per adesso non è possibile anche perché non dovrebbe avere la pena ristrutturarlo ha una piccola finestra e per me già questo è una conquista perché dove abito io adesso finestra non ce n'ha e qua c'è la doccia e però vabbè come vedete manca tipo il soffione e varie cose dettagli e poi da qui praticamente si accede di nuovo alla camera da letto quindi l'idea mia era quella di accedere alla camera da letto da qua quindi dalla stanza jolly in modo che quella porta rimanga sempre chiusa perché quella è da poi sul soggiorno e chi entra non voglio che veda appunto la camera da letto quindi quella mi rimane sempre chiusa qui la finestra idem con patate penso che farò tipo mettere una tenda o qualcosa ah già che i mattoni sono questi il pavimento non so se siete riuscite a vederlo è il grass il classico grass porcellanato tra l'altro sporchissimo che si utilizza adesso che sembra appunto effetto legno e sarà pavimentata la cucina e tutto quanto il corridoio quindi con questa luce che sembra tipo non lo so un'apparizione io vi saluto dalla mia casetta molto 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 bella e quindi non potete capire la gioia che provo e non potete capire il macello che c'è in questa casa e quanto lavoro dobbiamo fare per renderla quanto meno abitabile quindi niente con questo visuale adesso vi saluto ciao ciao